Ciao, sono Laura e vengo dall'America. Qui alla Sysa studio il cervello. Prima di venire qui alla Sysa ho studiato prima la Fisica, che è la scienza di quasi tutto, e anche la Linguistica. E questa è la scienza di tutte le lingue per sapere come sono simili le lingue e anche come sono diverse le lingue. Ma adesso alla Sysa studio come è il cervello delle persone che sono monolingue, in questo senso che parlano solo una lingua, e le persone che sono bilingue, le persone che parlano due lingue a casa. Quando faccio questo studio chiedo a queste persone a venire qui alla Sysa per fare qualche esperimento. In questo esperimento chiedo per fare una cosa, per vedere quanto veloce sono queste persone per rispondere, non so, a una parola, una figura così. E anche faccio altri esperimenti in cui faccio l'immagine del cervello di queste persone. Quindi andiamo all'ospedale e usiamo una macchina che può prendere fotografie del cervello. E dopo guardo queste fotografie e chiedo ma sono diverse queste fotografie delle cervelle di persone che parlano solo una lingua e le persone che parlano più di una lingua. Quando non qui alla Sysa mi piace andare alla spiaggia con gli amici che vengono da Romania, di Argentina, di Germania e anche Italia e anche mi piace imparare altre lingue come croatto e di leggere libri e anche di ballare.